Come gustoso antipasto al Salone del Gusto e a Terra Madre, in programma a Lingotto Fiere da giovedì prossimo fino a lunedì 27 ottobre, la centralissima piazza Carignano veste i panni di una galleria d'arte fotografica a cielo aperto, ospitando le immagini del maestro Oliviero Toscani. Questa volta il suo obiettivo è immortalato il cibo, in particolare i cosiddetti presidi, ovvero i frutti della nostra terra tutelati da Slow Food perché espressioni di valori come la tutela della biodiversità, delle tradizioni produttive, della sostenibilità ambientale ed etica. Cibo e fotografia è un binomio perfetto, spiega Toscani, secondo cui il mangiare è una cerimonia sacra, alla quale la fotografia non può non offrire la propria carica di emozioni e di vocazioni. Obiettivo, offrire un lucido ritratto del nostro tempo, creare una sorta di atlante antropologico che mostri preziosi valori che rappresentano il fertile terreno dell'alimentazione di qualità. Al tempo stesso la mostra mira a documentare i troppi sprechi, il poco rispetto di una metà del mondo purtroppo troppo spesso abituata a consumare in maniera inconsapevole. Ripartire dalle materie prime e dal rispetto per l'ambiente, ecco la ricetta giusta. Perché una volta ai tempi dei nonni era tutto Slow Food, ricorda Toscani. Per un tuffo nel passato, con un occhio rivolto al presente e dal futuro, la mostra Terra Madre, secondo Liviero Toscani, vi aspetta in piazza Carignano fino al 31 ottobre.